L'amore della guerra Cioè questo è il peggio del periodo della guerra? Queste immagini non le avete visto neanche durante la guerra? No, ma morire di me Magari non si mette il sorgo perché si vedevano il panino per mangiare non so, ma qui sta l'uomo dà casa è macabrella non lo voglio bastare su ma non lo trovo Grazie a tutti. Grazie a tutti.